Sanremo, i cantanti che si esibiranno il febbraio, ci sono Mengone e Ultimo. Si avvicina a 73 edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2023, in programma da martedì 7 febbraio su Raiun fino a sabato 11 febbraio. Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della prima serata, che ha svelato chi saranno i 14 cantanti a esibirsi martedì e quali invece i 14 in gara mercoledì. L'ordine di uscita dei 28 cantanti al Festival di Sanremo 2023 è stato ufficializzato dal conduttore Amadeus. I 28 artisti si divideranno in due gruppi. 14 si esibiranno la prima serata, 7 febbraio, e 14 la seconda, 8 febbraio. Giovedì 9 febbraio invece si esibiranno tutti e 28 e ci saranno i Moneskin come ospiti. Nel corso della prima serata ci sarà anche il debutto sul palco dell'Ariston di Chiara Ferragni che sarà la co-conduttrice della prima serata insieme ad Amadeus e Gianni Morandi. L'imprenditrice digitale cremonese dovrebbe portare sul palco un monologo su gioie e dolori della sua esperienza di influencer, di imprenditrice e di mamma. Tra gli ospiti di martedì ci saranno anche Mamò De Blanco, vincitori della passata edizione. Sul palco saliranno anche i puedalino Sofia Ricci che presenterà la nuova fiction che la vede come protagonista. Mentre in collegamento dalla nave ormeggiata a largo della città ci sarà il cantante Salmo. La prima a esibirsi nel corso della prima serata sarà Anna Oxa, molto attesa dopo anni di assenza sul palcoscenico dell'Ariston. Poi si esibirà uno dei sei giovani in gara quest'anno, Gian Maria, seguito da Mr. Rain, il quarto a cantare sarà Marco Mengoni seguito a breve distanza da Riete e da ultimo. Settimi coma cosa, ottava Elodie e nono Leo Gasman. I cugini di campagna saranno i decimi a esibirsi. Poi sarà la volta di Grignani, Olli, Collazio e Mara Sattei. Questo l'ordine di uscita del 7 febbraio. Questo invece l'ordine dei cantanti sul palco dell'Ariston è la serata di mercoledì 8 febbraio. La co-conduttrice di mercoledì sarà la giornalista e conduttrice tv Francesca Fagnani. La co-conduttrice di mercoledì sarà la giornalista e conduttrice tv Francesca Fagnani. La co-conduttrice di mercoledì sarà la giornalista e conduttrice tv Francesca Fagnani. La co-conduttrice di mercoledì sarà la giornalista e conduttrice tv Francesca Fagnani.